Non ho pensato mai che la musica fosse il mio destino. Quando ho fatto il primo film, era il 61, ho detto, in 1970, smetto di fare il cinema. Colorava queste canzoni, le faceva diventare un'altra cosa. Il leone disse, io quel flauto di panna lo vorrei a tappeto sul film. Il leone disse, non si può mettere il flauto di panna su tutto. Era molto nuovo al tempo, e ancora oggi. Ha aperto i visuali. Quando ascolti la musica, sai che è Zennio. Non può essere nessuno. Non è solo popolare, è un ensign. Abbiamo sempre venuto da questo. Abbiamo sempre venuto da questo. Abbiamo sempre venuto da questo. Dicca, dicca, dicca emozione. La musica che abbiamo continuato a sentire per tutta la fitta, senza quella musica. All'inizio pensavo che la musica del cinema era un'umiliazione. Scrivendo io, volevo la rinincita. Vincere su questa colpevolezza. Io sono fatto di tutto quello che era la musica che ho studiato. Se ci chiede la musica per la sua vita. Giapto stato un'umiliazione. Le notizia patente. È una musica che la musica che ha studiato per la loro vita. Il gioco della musica e piaccia proprio di tutto. È una musica che ci porta più sulle. Grazie a tutti.